Svolgono un lavoro silenzioso ma essenziale per i bambini. Svolgono un'assistenza di qualità a donne e neonati senza discriminazioni riguardo al loro credo religioso e soprattutto alla nazionalità. Sono i medici e paramedici dell'ospedale Sacra Famiglia del Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodia e di Malta, che da oltre 20 anni gestiscono la struttura. È una clinica specializzata nel settore della maternità ed è l'unica attrezzata per l'assistenza prenatale. Il loro motto è «I più poveri meritano il meglio». E proprio a Betlemme, dove a sede la struttura sanitaria il tasso di disoccupazione supera il 70% e la sicurezza sociale e le assicurazioni sanitarie sono completamente assenti. Nei giorni scorsi abbiamo siglato un accordo con l'autorità palestinese per le gravidanze ad alto rischio. Tutte le mamme del distretto di Betlemme che hanno problemi di gravidanza sono mandate da noi perché siamo gli unici che possono prendersi cura di questi bambini molto piccoli, a partire dalla 25esima e 26esima settimana di gravidanza, con un peso che si aggira attorno ai 500 e ai 600 grammi. Siamo gli unici in tutta la Palestina in grado di prendersene cura. Il recente accordo ha anche un significato politico. In tempi brevi il sovrano ordine di Malta aprirà un'ambasciata ed avvierà con l'autorità palestinese rapporti diplomatici tra stati. Direttore, in ospedale ci sono problemi di convivenza tra cristiani e musulmani? No, non abbiamo nessun problema. In questo ospedale il 93% delle partorienti è musulmano e solamente il 7% cristiano. A Betlemme ci sono sempre meno cristiani. Ogni anno infatti molti di loro emigrano in paesi stranieri, in Sud America, in Canada o in Europa. D'altra parte l'80% dei nostri dipendenti è cristiano e il 20% è musulmano. Siamo quindi molto importanti perché assicuriamo loro un lavoro che li trattiene nella loro terra. Per i cristiani siamo molto importanti perché stiamo dando loro lavoro e indirettamente stanno in paesi stranieri perché hanno lavoro qui in questa paesi. Ci sono volontari che prestano la loro opera all'interno della struttura sanitaria? No, tutto il personale è pagato dal sovrano ordine di Malta. Siamo anche l'ospedale di tutti i campi profughi attorno a Betlemme. Questo significa che abbiamo anche contratti con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi ed anche per questo le meno abbienti e le donne dei campi profughi vengono qui nel nostro ospedale per partorire. Ai pazienti viene chiesto di pagare in base alle loro disponibilità e con il controllo e l'aiuto di un assistente sociale. Le entrate coprono solamente il 45% circa dei costi di gestione. Il rimanente 55% viene coperto attraverso campagne di donazioni organizzate da alcune associazioni del sovrano ordine di Malta o da singoli donatori. In media, nell'unità di terapia intensiva neonatale viene accolto il 13% dei neonati e ogni anno 22.000 tra donne e bambini vengono assistiti attraverso servizi ambulatoriali esterni. Nel nostro ospedale vengono impiegate tutte persone del luogo. Ma l'impegno di medici e paramedici dell'ospedale Sacra Famiglia di Betlemme non si limita all'assistenza sanitaria nella struttura di Betlemme. Ogni settimana, il giovedì, un'ambulanza con personale medico e paramedico a bordo si reca nel deserto di Giuda, dove i medici visitano e assistono le donne in gravidanza. Signor Khaled, i medici e gli infermieri dell'ospedale di Malta una volta alla settimana vengono a visitare le donne e i bambini del villaggio. Come giudica questo loro impegno? L'ospedale dei Cavalieri di Malta di Betlemme è l'unica struttura che accoglie le nostre donne quando devono partorire. I medici curano anche i nostri bambini. Ogni giovedì una loro ambulanza viene nei nostri villaggi. Il medico visita anziani, donne e bambini. Ci portano anche le medicine per curarci. Quando una donna deve partorire, viene recuperata in ospedale e riportata a casa con il bambino. Se non ci fosse l'ospedale della Sacra Famiglia, per noi curarci sarebbe molto difficile. Non abbiamo né assicurazione sanitaria né assistenza sociale. L'ospedale ci cura gratuitamente. Bisogna dire grazie. Senza il loro impegno, sicuramente non riceveremo nessuna cura. Un grazie a tutti i medici dell'ospedale che si sacrificano a fare questo lungo viaggio ogni settimana per venire a visitare le nostre famiglie. Il loro aiuto è utile per la nostra salute. Ci può dire una cifra delle persone che utilizzano questa struttura sanitaria? Abbiamo 3.250-3.500 parti all'anno e finora abbiamo avuto 53.000 madri che hanno partorito in questo ospedale senza nessuna morte per parto. Siamo un ospedale d'eccellenza, molto ben equipaggiato e i nostri dottori sono ben qualificati. La maggior parte di loro è stata formata all'estero e poi sono tornati in Palestina per aiutare la propria gente. Dove si formano i vostri medici? Siamo un ospedale universitario dove si fanno tirocini e i dottori si specializzano in ginecologia, ostetricia e neonatologia. Questi tirocini sono stati anche approvati dalle autorità palestinesi. Molti giovani dottori palestinesi, anche se sono in possesso di una laurea presa in una università all'estero, fanno quasi tutti il tirocinio nel nostro ospedale. Siamo un ospedale riconosciuto tra i più efficienti della regione per ginecologia, ostetricia e neonatologia. Direttore, lei guida un ospedale che è dei cavalieri del sovrano ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodia e di Malta. Quanti sono i cavalieri di Malta in Israele? Non è semplice entrare a far parte dell'ordine militense. Attualmente ci sono io e altri due sacerdoti. Il principe è mai venuto a visitare questa struttura ospedaliera? No, sfortunatamente non è riuscito a farci visita. Ci sono rapporti difficili tra l'ordine di Malta e lo Stato di Israele perché il sovrano ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodia e di Malta non è riconosciuto dallo Stato di Israele. Quindi è una questione diplomatica molto difficile. È una questione diplomatica molto difficilta. e una questione diplomatica molto difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.